È arrivata l'estate, abbiamo voglia di qualcosa di fresco, ricco di vitamine, buono, saporito, gustoso Vodo io, eccolo qua! Allora Ci facciamo il guacamole a casa, quindi avocado, che adesso va proprio molto di moda lime Coriandolo fresco peperoncini, quale volete? Quello grosso rosso, quello grosso verde, e quello piccolo verde che è piccantissimo Poi un po' di sale e poi abbiamo un po' di pane per accompagnare il tutto Allora, prima di tutto, è il pomodoro, scusate, pomodoro facoltativo, ok, allora Oltre al nostro motto finale, poi c'è il nostro motto, quello che tutto è permesso, quindi se non trovate il coriandolo Non vi disperate, non vi disperate, questo è il coriandolo fresco O non lo utilizzate niente, non apprezziamo per cortesia Quindi è buono lo stesso, allora comincio a fare una cosa che è questa qui, lo svuoto, come deve essere avvocato? morbido, guardate, così, vedete, deve venire così, bello non nero sfatto, ma deve essere morbido, quindi voi, senza farvi vedere toccateli, toccateli, vedete, così fate piano piano con la manina così guardate così, di nascosto sentite se non lo prendete, se no lo lasciate là non duro, non san pietrino, i san pietrini no, i san pietrini stanno per strada, ok? Quindi, questo è l'avvocato, adesso massaggiate, vi insegno una cosa che mi hanno insegnato a me guarda, il lime è difficile da spremere, no? Voi fate così, lo tagliate così 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 e così, guardate eh guardate quante ne esce il succo così poi vi faccio vedere la differenza di quando lo tagliamo a metà, guardate eh tanto lime, buono, fresco, proprio, e state e state, così ecco così, così, bello, bello, così fantastico poi, un pizzio di sale così poi, quanto vi piace il piccante? allora, facciamo così proviamo eh, bello assaggiamo piccante ma dolce, va bene così, tagliamo intanto frulliamo tutto va, così non è piccante, non vi preoccupate, non è piccante vado così e metto un pezzettino di questo qua e questo è piccante, è vero, questo è più piccolo però voi, con solo quel dolcino anche in polvere, anche secco, non c'è problema poi, coriandolo fresco eccezionale, buono a me piace da morire chi è stato in Messico in Thailandia, sa di che cosa parlo ha un odore particolare ha un gusto particolare però, vi ritorno a ripetere se non l'avete, non fa niente non mettete niente è meglio non mettere niente che il prezzemolo quindi potete farlo ugualmente con il succo di lime, il sale, l'avocado senza coriandolo perché non si trova facilmente vado così pac, 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 pac e adesso andiamo a frullarlo quando è veramente morbido morbido e l'avocado si può anche fare con la forchetta vado guardate va bene non aggiungete olio non aggiungete niente guardate assaggiamo allora, un po' di succo di lime allora, bella sta musica ora vi faccio vedere la differenza se lo taglio a metà e se lo vado a spremer guardate non esce qua, vedete, rimane sempre belluto ci vuole una forza incredibile perché rimane sempre troppo duro adesso, pomodoro una cosa importante normalmente ci va la cipolla ma è mezzo alla settimana, lo sapete la cipolla la mangiamo solamente quando è fine settimana io almeno io adesso, pomodoro taglio a dadini che mi ci piace dentro ci siamo con la fame del pazzi nel frattempo quello che faccio ce lo mangiamo così poi che c'è tempo ce lo mangiamo guardate che meraviglia ecco qua e già guardate che morbido bello cremoso poi in una padella come questa che metto io qui ho comprato il pane arabo ma siriano decisamente ma voi potete pure utilizzare il pane calasau di grec quello che volete voi di tagos quello che volete voi io che faccio metto un goccio d'olio così un goccio mi è scappato un po' di più va bene taglio a spicchietti così ecco qua e l'olio d'oliva frigo il pane in padella così poi incomincio a mettere i miei pomodorini qui dentro che li condisco qua perfetto un pizzico di sale solo sale così eccolo qua vedete che sentite ha cominciato a strillare eh la prossima se ho le parole vado pomodoro qui su poi andiamo a controllare qui bello mamma mia guardate che robetta buonissimo mamma mia guardate che robetta che spettacolo vai così vai vai asciugo un pochettino metto un po' di sale e adesso assaggiamo questa bontà che bella bollente facciamo così siete pronti? guardate che bello è caldissimo un secondo fresco acido buono godurioso allora fa bene buono economico va costa un pochino l'avocado però si può fare dai se è un anch'io si può fare un appetito buonissimo mezza settimana è perfetto mmmm mmmm e poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti, e poi i like! E andiamo se la mostro a questi like! Un bacio e un abbraccio a tutti!